pronto pronto i passi mia moglie sì signore un attimo vado subito signore signore sua moglie non può venire in questo momento è a letto con un uomo ma come mia moglie ha letto con un altro ma prendi la pistola e ammazzali prendi la pistola e ammazzali sì signore certo signore come vuole lei signore fatto signore sì e la pistola dove l'hai messa l'ho buttata in piscina signore piscina ma quale piscina ma che numero fatto io